Ormai lo sappiamo, il Milan è diventato ufficialmente la regina del calciomercato estivo 2017, ma nonostante i tantissimi acquisti fatti per la difesa, per il centrocampo e per l'attacco, sembra che arriverà ufficialmente anche un altro centravanti, come confermato dallo stesso dirigente sportivo del Milan, uno tra Belotti, Morata e Aubameyang. Ultimamente, dopo l'amichevole tra il Borussia Dortmund e il Milan, il DS da squadra tedesca ha confermato che Aubameyang non è in vendita e quindi la scelta dell'attaccante si è ristretta a due giocatori, Morata e Belotti, e tra i due quello più costoso ovviamente è Morata. E Morata, ovviamente parlando di voci di mercato, sembra più vicino al Chelsea. In conseguenza, la scelta del Milan, stando anche all'ultimo articolo di Di Marzio, è di virare solo ed esclusivamente su Belotti, una scelta che ha fatto arrabbiare molto i tifosi del Torino, ma che purtroppo dovranno stare zitti e sperare che il Torino non lo ceda al Milan, perché il Milan ha dimostrato quest'anno che se ha i soldi può prendersi chiunque. Il capitano della Lazio, il difensore bandiera della Juve, cosa per me impensabile quando c'erano state le prime voci di mercato, tanti altri giocatori importanti e quindi se il Milan busserà veramente alla porta del Torino per prendere Belotti, offrendo anche più di 60 milioni, non so quanto possa essere forte la volontà di Cairo di non cederlo davanti a cifre del genere. Allora, io sono sempre stato un grande stimatore di Belotti, questa stagione è veramente stato un giocatore formidabile, formidabile, veloce, tecnico, grintoso, determinato, ha unito la grinta alla tecnica segnando tanti gol in una squadra che di per sé non aveva una formazione titolare fantascientifica, per esempio Gekko con la Roma ha fatto tanti gol, ma anche perché aveva una bella rosa costruita su di lui, soprattutto con gli esterni Perotti, ma anche Salah, soprattutto Salah, che gli hanno fornito tante occasioni per segnare e appunto ha segnato tanti gol. Belotti ha sì avuto dei compagni di reparto bravi, però per esempio gli Aic, gli assist ne ha fatti veramente pochi, Iago Falke un pochino, però i restanti giocatori della squadra non sono così forti, eppure Belotti almeno fino alle ultime giornate di campionato ha segnato caterve di gol in ogni modo, in ogni tipo, con tiri dalla distanza, tiri ravvicinati, colpi di testa, giocate d'alta scuola, veramente uno dei giovani attaccanti italiani più forti degli ultimi anni e potrebbe veramente arrivare ai livelli dei vari Vieri, dei vari Chiesa, eccetera, eccetera. Il futuro è tutto nelle sue mani. Di conseguenza l'offerta del Milan sarebbe di importanza raddoppiata, perché gli permetterebbe di essere il fulcro dell'attacco di una squadra che potrebbe diventare una delle anti-Juve, una delle mini anti-Juve, e successivamente anche una padrona del campionato italiano. Quello non lo sappiamo. Come può darsi che il Milan può scoppiare il prossimo anno se non arrivano i risultati? Può darsi anche che se arrivano i risultati diventerà la nuova dominatrice del campionato, come lo è stata l'Inter dal 2006 al 2010 e come lo è stata la Juve dal 2011 a finora, salvo quella parentesi del Milan che ha vinto soltanto uno scudetto. Belotti sarebbe per me un acquisto fondamentale e forse addirittura il più importante di Bonucci, anche se penso che Bonucci per il ruolo e tutto quanto è stato veramente un colpo clamoroso, però con Belotti ti assicuri, un attaccante giovane, forte, grintoso, che ti farebbe tantissimi anni positivi se continui a metti su questa strada, ci spenderessi tanto perché 60 milioni e sicuramente anche più sono una bella cifra, però per me li vale assolutamente. Considerando che un giocatore forte ma non fenomeno come Lukaku è stato pagato tra tutto 90 milioni, oppure altri giocatori per la quale sono stati pesi 60 milioni, vape che potrebbe andare a 100 milioni a neanche 19 anni compiuti, ci sono tanti casi di giocatori che sono stati venduti a cifre esorbitanti e per me Belotti, considerando il mercato attuale, rispecchia esattamente la cifra di 70-75 milioni, è una cifra che penserete pazzesca e per me se fosse esistito negli primi anni 2000 non le avrebbe mai valsi, se così si può dire. Vai valsi? Sì, però comunque guardando il mercato attuale per me è un prezzo che ci può stare e il Torino con quei soldi potrebbe rifare completamente, potrebbe prendere non solo un centravanti molto molto forte al suo posto, di buon livello che ti fa 15 gol in Serie A, ma ti prenderesti anche un difensore centrale, un terzino, un centravantista, ti faresti completamente tutta la squadra. Quindi io penso però che in questo caso considerando anche come è il presidente, come lui tira dalla sua parte i prezzi dei giocatori, dubito che il Milan riuscirà a prendere Belotti per la cifra che vogliono loro e penso sarà più probabile che Cairo, se deciderà di venderlo, ci prenderà ogni minimo milione possibile e secondo me questo è il ragionamento giustissimo soprattutto se sei tu ad avere il controllo completo sul cartellino di un giocatore. Vedremo come se evolverà questa vicenda, però se arriverà anche Belotti alla corte di Montella non avrebbe veramente scuse per non puntare almeno al terzo posto che con questa squadra per me, anche se deve amalgamarsi, è l'obiettivo minimo e sarà sicuramente una bella lotta tra Juve, Roma, Napoli, Milan e secondo me anche Inter perché l'Inter, come ho detto anche nel mio video precedente, non aveva bisogno di cambiare così tanto per diventare una buona squadra e quindi sono sicuro che anche l'Inter riuscirà a dire la sua in questo campionato. Fatemi sapere nei commenti voi che se ne pensate del possibile approdo di Belotti alla squadra rosso-nera del Milan come ultimo tassello di una squadra incredibile composta in questo mercato ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre Forza Roma! Ciao ragazzi! Ciao!